Dietro la chiesa, dietro uno da una parte e la bottiglia di fuoco. Traverso la chiesa è facendo. Quello che faceva il rame, quello con la testa perata, che sembrava un nano grande, no? Ah, sì, sì, era in mente, era forse... Canto i personaggi? Quello che faceva andare, anche poi c'era quello che faceva andare il mic. Sì, andare dentro di quella miniera. Non la miniera, quella...